con l'anticipazione sugli eventi, infatti accogliamo Roberta Amato, collaboratrice del magazine online noteverticali.it. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Prima di tutto, parte e mi presento con Roberta Amato e insomma siamo qui per parlare di eventi perché anche in Campania, per fortuna, sono eventi molto ben di nota. E quest'oggi vogliamo segnalare appunto questo evento che si svolge nel comune di Torre Annunziata da 20 giugno, dunque da Tappato Scosto, fino all'8 agosto. Perfetto. Quest'evento è appunto la quarta edizione del Festival Cabina 56 che è praticamente Festival di Musica Indipendente. L'appuntamento è tutta Tappato Sera presso l'Arena Nera Beach che è appunto una piazza lì nel comune di Torre Annunziata, una cornice appunto magica, molto bella, che vedrà alternati moltissimi protagonisti del panorama indipendente. Puoi darci anche qualche nome, ecco, magari così diamo un po' di acqua lì nel bocca anche agli ascoltatori. Esatto, allora il 20 giugno ci sono intanto i tipi di Bad Love Experience che sono un gruppo italiano che si riguarda sostanzialmente alle sonorità indie rock inglesi. Il 27 giugno gli Exxon Tapes, quindi un altro gruppo appunto indie. Poi abbiamo i Fox Sound, i Forest, i Populus. E poi il 1 agosto un'artista controverso che comunque più che altro compone musica, diciamo, a livello sociale, quindi si occupa sostanzialmente di tematiche sociali, che è un'artista cuciniana con la pesce. Stanno l'appunto a sostituire un gruppo appunto americano, il desiderio in più è il cast. Che sono un gruppo esagerato, io lo mi adoro, come è vero. E anche a me piacciono molto, anche a me piacciono molto, però purtroppo hanno annullato il tour europeo, quindi non saranno più a storia annunziata e insomma poi vedranno che ci saranno successivamente altre date. Comunque Roberta, per il nostro ascoltatore che magari non conoscono qualche nome, faccio giusto un appunto con la pesce, noi gli artisti emergenti più importanti a nostra penisola, molto più volte il May, e insomma farà sicuramente della strada. Dall'altro lato i Peace Forest sono una band di Pesaro, di Alterna di Indy, che ha suonato anche alla KXP a Seattle, è una radio americana, per cui stiamo parlando di italiani che ci stanno riuscendo, ci riescono. Sì, poi soprattutto anche perché il messaggio che comunque gli organizzatori vogliono dare in relazione a questo festival è quello che anche in campagna possano insomma essere prodotti e portati eventi di respiro internazionale, questo più che altro è il senso, perché sembra proprio di essere in una location internazionale, quel discurso che loro portano a tutta la rivalutazione del territorio. Esatto, è fondamentale far tornare anche l'idea che Napoli è un luogo dove il mondo arriva, non bisogna accendere. Esatto. Io da ragazzino sempre dovevo andare a Roma o Milano per un concerto, a parte qualche bel Neapoli che è stato fatto negli anni scorsi, l'idea di portare il mondo in nuovo a Napoli sarebbe una cosa fantastica. Esatto, sì, quindi è diciamo un'iniziativa che vale la pena vedere in un certo senso, è un concerto che vale la pena vedere, è un evento importante che comunque può involgere la nostra regione, quindi è necessario pubblicizzarlo dovutamente. Certo, infatti noi invitiamo tutti i nostri ascoltatori, me in primis, che è un paio di band che è uscita, lo vedremo a vedere subito. E poi insomma va avanti per tutta l'estate fino all'8 agosto, per cui ce ne sarà di roba insomma. Sì, poi tra l'altro ci sono anche molti ospiti che ancora devono essere annunciati, magari ospiti che arrivano ai concerti degli artisti che ancora devono essere resnoti, perché il festival è appunto iniziato la settimana scorsa, quindi ci saranno delle novità. Cioè, e poi è anche giusto centellinare insomma le novità di volta in volta, anche questo è giusto insomma. Esatto. Guarda Roberto, sei stata gentilissima, soprattutto molto esauriente, a me non è fatta venire l'acquolina in bocca, ma credo anche tutti gli altri ascoltatori che comunque di musica, rarredio, al di là delle top forti, riusciamo poi a ascoltare e a promuovere anche musica indipendente, in particolar modo italiano. Esatto, esatto. Grazie a voi per avermi ascoltata. Facciamo anche lì. Andate a seguire la cabina 56 perché è un bel evento. Ci vedremo là sicuramente Roberta, davvero. Grazie. Grazie mille. Ricordiamo, Roberta Amato, collaboratrice del magazine online noteverticali.it, su cui insomma potete anche andare a trovare informazioni su quello che poi ci saranno le varie line-up da, insomma abbiamo detto, per esempio Epi Forest, ragazzi, davvero sono una band, io ho avuto modo di conoscere suonando in giro qualche volta quando ancora erano le prime Epi, adesso sono in America. Addirittura. È vero, cioè. Sono evoluti bene, insomma. Eh no, ma fanno bella musica. Stesso discorso per i Tiger Sheet, Tiger Tiger, che è un'altra band, non ha citato Roberta, ma sempre della zona, sono di Pesaro, giù di lì, e fanno, se non sbaglio, e comunque sono un'altra band che sta andando a suonare, è già stata negli Stati Uniti, cioè gli italiani ce la fanno. A volte non si riesce a essere compresi, perché si fa, ecco, come dicevamo prima, delle musicalità magari più affini all'Inghilterra o all'America, che magari da noi non trovano il mio peccato. Però stiamo tornando, gli italiani tornano a casa. L'Italia do it better, se c'era qualcuno. 12 e 44 e 30 secondi, spot.